per il tuo commento rispetto a quando ho fatto la live a intorno alle 12. Grazie, grazie mille di feedback. Ora sto streamando alle 6 di sera, forse meglio fatemi sapere, fammi sapere anche questo in base a quelle che sono le tue esigenze, anche i vari giorni della settimana se c'è qualcosa di preferito rispetto ad altre cose. Grande Thomas, ciao. Io direi di iniziare, quindi ho avuto dei feedback che le cose si sentono, tutto questo rimarrà online, sia che lo stia guardando su Facebook, che tu lo stia guardando su YouTube, i video poi rimarranno live online, per cui se non li hai guardati durante la live li potrai rivedere assolutamente dopo. Quindi io direi iniziamo perché. Grazie Alberto che mi dà un feedback da YouTube, quindi direi iniziamo così almeno entriamo subito nel cuore della cosa. Come sempre io sono un po' prolisso, quindi nel cuore non ci entriamo proprio subito, 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 quello che vorrei fare è di nuovo prendere delle immagini, portarle dentro a Metashape e creare un mini progetto senza dare tanta importanza, anzi non la consideriamo proprio tutta la parte legata alla georeferenziazione, alla ottimizzazione dell'allenamento, cosa che invece va assolutamente fatta nella normalità. mi interessa arrivare alla mesh, però ci arriviamo passo passo attraverso le fotografie, l'elaborazione all'interno del workflow di Metashape. Per domande la chat sta funzionando, per cui se hai delle cose che ti vengono in mente, le curiosità da sottopormi, me le puoi scrivere lì, io magari non ti rispondo subitissimo, ma appena mi fermo un attimo, comunque appena arrivo a un punto in cui mi posso mettere in pausa, ti do sicuramente riscontro, sempre che riesca a darti una risposta. Allora prendo le immagini, che sono? Se hai seguito la live vecchia, la prima live che ho fatto per quanto riguarda la gestione dell'ortofoto e quindi il ritaglio dell'ortofoto sulla base delle polilinee e di poligoni, le fotografie sono non proprio le solite, l'aria è la solita, il giorno è il solito, il mezzo è il solito, un DJI Phantom 4 Pro, le fotografie che processi in questo workflow sono leggermente diverse perché sono, invece di essere delle prese nadirali, sono delle prese oblique, quindi la camera è inclinata leggermente rispetto a, è un'inclinazione diversa rispetto ai 90 gradi, rispetto all'orizzonte, rispetto l'ho detto un sacco di volte, e queste sono le immagini di un'area prossimale a una cava di marmo nel bacino marmifero di Carrara. Per cui porto dentro le immagini, che sono 46 camere, hanno una georeferenzazione che è legata alla posizione che gli è stata attribuita dal GPS di bordo del Phantom 4 Pro, niente RTK, niente PPK, quindi è una posizione che potrebbe essere paragonabile a quella, la precisione potrebbe essere paragonabile a quella del nostro smartphone, ad esempio, ma ti ripeto, non è molto importante ai fini di questo video. Questa è la posizione reciproca delle immagini una con l'altra, comunque ha senso, il GPS scarta di qualche metro, però trattandosi di fotografie aeree, la distanza tra un centro di presa e l'altra è sicuramente maggiore della precisione del GPS dello strumento, grazie Vincenzo del tuo feedback. Inizio con l'allineamento, allineo le immagini, lascio tutto spuntato, lascio la accuracy, quindi la, chiamiamola così precisione, anche se è un po', potrebbe essere un po' forviante parlare di precisione, questo vuol dire, l'accuracy vuol dire, qual è il livello di dettaglio, o meglio, la risoluzione che viene considerata dal software quando analizza le immagini per trovare i punti, i features point, i punti caratteristici, e poi questi punti caratteristici cerca di matcharli con tutti gli altri punti caratteristici delle altre immagini del dataset per creare la nuvola di punti sparsa. Eccola qua. Questa è la nuvola sparsa, questa è la posizione delle camere, si vede che sono camere oblique, magari riesco a farti vedere anche le miniature, quindi show thumbnails, eccola qua. È molto interessante, è molto utile utilizzare le camere oblique, questo è un inciso per quanto riguarda i progetti fotogrammetrici generali, anche se devi fare delle acquisizioni di aree tendenzialmente piatte, ti viene in mente di fare soltanto un'acquisizione anadirale, il mio consiglio è quella di metterci anche delle fotografie oblique, perché irrobustiscono molto il dataset, aiutano tantissimo, soprattutto la fase di definizione dei parametri di calibrazione della camera e anche l'ottimizzazione dell'allineamento. Dalla nuvola sparsa, adesso abbiamo un paio di strade per arrivare alla mesh, perché io voglio arrivare alla mesh per poi creare la nuvola di punti densa, o meglio, una nuvola di punti, la densità la decidiamo noi, a partire dalla mesh. Utilizzo, Giuseppe Ria mi dice, proprio quello su cui ho fatto la tesi, Giuseppe è la tesi, l'hai fatta sul campionamento dei punti su una mesh, oppure l'ambito delle cave di marmo di Carrara, un ambito a cui sono molto legato, forse per me sarei sempre là a lavorare. Facciamo così, creiamo la mesh dalle mappe di profondità, quindi salto la nuvola densa, o meglio, possiamo provare, vabbè, saltiamo la nuvola densa, quindi creiamo la mesh dalle mappe di profondità. Utilizzo una qualità bassa, voglio cercare di evitare tempi di attesa e rischi di impallamento di tutto quanto. Le opzioni sono tie point o mappe di profondità, perché la nuvola densa non esiste ancora. Lascio abilitata l'opzione di interpolazione il filtering, cioè un filtro che viene applicato alla generazione della mesh, lo lascio mild, che vorrebbe dire un po' medio, morbido, non è aggressivo, non è moderato, che ha uno step superiore al morbido, ma non è disabilitato. Non dovrebbe metterci molto, lo software calcola. Le mappe di profondità che sono degli elementi, sono delle sorti di modelli digitali di elevazione, detta così, suona un po' strano, in realtà è un po' una forzatura, però vengono calcolate. Viene calcolata proprio la profondità rispetto ai vari piani che sono all'interno del raster 2D, che sono le immagini, dei pixel all'interno della solita scena. Questo è possibile perché le immagini sono state allineate. E quindi c'è un'informazione di tridimensionalità legata alla nuvola di punti sparsa che in questo momento è stata generata. Ok, grazie Giuseppe per il chiarimento. Intanto provo a fare anche una cosa con questo commento, vediamo se funziona. Non so se si vede, show on stream. Dovrebbe vedersi tra l'altro questo commento. Quindi Giuseppe mi dice che ha fatto, la sua tesi è stata su una valutazione di rilevo fotogrammetrico con camera a presa, solo una dirale, solo inclinata e mista. È molto importante mescolare, secondo me, diverse prese, diverse direzioni di presa nella presa fotografica stessa. Vediamo se adesso riesco a toglierlo. Grandissimo. Anche questa cosa funziona. C'è il mio logo che sta un po' in mezzo alle scatole nell'evidenziazione dei commenti. E poi questa è una cosa che cercherò di risolvere nella prossima live. A questo punto la mesh esiste. Non si vede perché devo abilitare la vista della mesh. Quindi faccio un clic su questo grande pulsante. Di default Metashape mi fa vedere la mesh solida senza l'attribuzione del colore, ma se non sbaglio ho lasciato spuntata l'opzione di generare il colore. E quindi la nuvola di punti è... No, la mesh è colorata. Ora, avendo scelto delle mappe di profondità avendo scelto una opzione per la generazione della mesh da mappe di profondità, quindi creazione delle mappe di profondità di qualità bassa, fa un po' schifo questa... Devo dire che fa abbastanza schifo questa mesh. Però il primo step facciamolo con questo. Giusto per farti vedere come funziona il comando e dove devi andare a cercarlo all'interno di Metashape. Quindi il tuo dato è quello di una mesh. La mesh cos'è? Una superficie. È una superficie fatta di triangoli. Eccola qua. Se io attivo la vista wireframe si capisce piuttosto bene che cos'è la mesh. Ci sono dei triangoli i cui vertici sono degli elementi... Mi viene da dire elementi della nuvola densa, ma non è vero perché la nuvola densa in questo caso non c'è... è stata creata dalle mappe di profondità. Comunque elementi della scena che sono aderenti al... in questo caso al contesto che è stato fotografato è stato possibile ricrearli a partire proprio dalle mappe di profondità, quindi dagli elementi informazioni tridimensionali sui elementi 2D, questi triangoli formano un continuo. La nuvola di punti non è un continuo, sia che siano punti di legame. È abbastanza evidente che siano sparsi, si chiama anche nuvola sparsa, ma anche la nuvola densa, per quanto siano vicini i punti, non sono elementi continui. A un certo punto, zoomando nella nuvola densa, vedi lo spazio tra un punto e l'altro. La mesh è una superficie. Ed è un grande vantaggio... cioè ci sono tanti vantaggi nel lavorare con le superfici. Una volta che hai la mesh, lo strumento per creare una nuvola di punti a partire dalla mesh lo trovi in tools, dense cloud, sample point. Sample vuol dire campiona. Quindi quello che fa questo comando è campionare, prendere la superficie che hai di riferimento, in questo caso è la mesh, source data è mesh. Credo che si possa fare anche con il modello digitale di elevazione, magari dopo proviamo a farlo, e crearti dei punti. Come te li crea? Beh, hai un'opzione fondamentalmente per lavorare su questo comando, che è il point spacing, cioè la distanza, la minima distanza tra i punti. In questo caso 0,05, perché prima ho fatto delle prove con questo valore, nulla ti vieta di mettere un valore più spinto, in termini di distanza minore, o più grande, quindi lasci un po' più di spazio tra un punto e l'altro nella nuvola di punti che ti viene generata. Lasciamo ad esempio 0,05 come valore, il software ti fa vedere, ti dà già una stima in output, non è tanto una stima perché va abbastanza bene nell'unità, è un calcolo matematico che fa lui, ti dice quanti saranno i punti della nuova nuvola densa che verrà creata, 14.220.000 erotti. ho messo la spunta su Uniform Sampling, di fatto questa spunta ce l'hai di default, se togli la spunta non puoi fare praticamente niente e il software si prende tutte le libertà nel generare questa nuvola di punti a partire dalla mesh, quindi se vuoi controllare qualcosa, metti la spunta su Uniform Sampling e gli dai ok. Ci mette più o meno tempo in funzione di quanto è complicata, chiamiamola così, la mesh, quanti sono i triangoli, quanto è grande, quanto è grande l'area e quindi il numero dei triangoli della mesh al di là della sua complessità, alla fine ha creato una nuvola di punti. Non la vedi perché devi attivare la vista della nuvola di punti. Una cosa interessante è che, interessante da una parte potrebbe non esserlo dall'altra, è una scelta che è abbastanza soggettiva. Lui nella generazione della nuova nuvola di punti attribuisce il colore a questi punti prendendo come informazione di colore del punto l'informazione di colore della faccia su cui già c'è il punto e quindi sul quale viene generato. Quindi avendo creato una mesh tridimensionale con informazione di colore, la mesh, il model shaded, anche la nuvola di punti ha colore. Se la mesh fosse priva di informazione di colore, allora anche la nuvola di punti verrebbe senza informazione di colore. Questa è la nuvola di punti che abbiamo generato. Ho cliccato su questo pulsantone dove vedo la nuvola di punti densa perché lui la classifica come nuvola di punti densa e questi sono gli elementi. Ora, c'è da dire che questa roba qua fa un po' schifo perché la mesh che ho utilizzato fa in effetti un po' schifo. Quindi quello che potremmo provare a fare adesso è eventualmente limitare un pochino l'area di calcolo, generare un'altra mesh oppure potremmo provare a generare la nuvola di punti densa e poi generare la mesh su questa. Comunque cercare di generare una mesh che sia un po' migliore per vedere effettivamente quali sono i vantaggi di utilizzare uno strumento di questo tipo. Proviamo a rifarla questa cosa, questo processo. E intanto mentre lancio il processo poi rispondo a una domanda che mi fa Alberto su YouTube. Allora mi sono un po' perso tra i vari schermi quindi io vado qua a Workflow Build Mesh utilizzo le mappe di profondità prima facciamo una cosa limitiamo la regione di calcolo perché tanto a me lavorare su tutta quest'area non è che mi interessi molto quindi la limitio questo se non sai come si limita la regione di calcolo te lo faccio vedere in questo frangente come sempre poi nei miei video ci finiscono dentro altre cose che spero però possono esserti utili. Allora c'è questo grande pulsante che è il pulsante relativo alla regione Move Region, Resize Region, Rotate Region la regione di calcolo è questo grande parallelepipeto qua che vedi che automaticamente ti calcola Metashape quando fai il primo allineamento ma che puoi limitare puoi modificare in funzione di poi quelle che sono le tue esigenze di calcolo. Quindi io lo ridimensiono prima mi metto in vista dall'alto quindi schiaccio 0 e 5 mi sta dall'alto ortometrico sto utilizzando ho utilizzato il tasterino numerico Workflow no, assolutamente no Resize Region e la chiudiamo parecchio direi che possiamo lavorare soltanto su questa parte in modo tale da cercare di velocizzare un po' il calcolo quando ho finito riclicco su questo freccione la regione di calcolo eccola qua è limitata a questa a questo punto lancio la generazione della mesh con le mappe di profondità in qualità vogliamo azzardare in qualità alta vediamo cosa succede il face count lo possiamo lasciare medio e il depth filtering aumentiamolo un po' lasciamo un spuntato eccola qua la spunta su calculate vertex color questo è quello che mi dà la possibilità poi di calcolare il colore della nuvola di punti perché la mesh che sto calcolando in questa fase ha informazione di colore relativamente alle facce diamogli ok allora quello che succede in questa fase io ho ridotto la regione di calcolo però c'è un processo che è questo che sta andando proprio in questo momento è il generating depth map cioè la generazione delle mappe di profondità che ha la stessa durata del processo che sarebbe partito senza limitazione senza riduzione della regione di calcolo perché? perché è legato alle immagini se avessi voluto velocizzare questo processo avrei dovuto disabilitare delle camere quindi dire al software guarda non utilizzare in nessun modo alcune camere perché non mi interessano allora lui le avrebbe saltate quindi non avrebbe tra virgolette impegnato del tempo nella generazione delle mappe di profondità per quelle camere disabilitate in questo modo lui sta calcolando le mappe a livello alto quindi prendendo la piena risoluzione di ogni immagine su ognuna delle immagini del dataset quello che auspicabilmente dovrebbe succedere è che dovrebbe metterci di meno o meglio dovrebbe essere ridotto il tempo di calcolo nella generazione della nuvola di punti densa perché io ho ridotto la regione di calcolo e quindi lui dovrebbe concentrare le sue forze e quindi un po' il suo tempo il tempo del processo nella generazione dei punti no della mesh soltanto in quella zona lì ho detto la nuvola di punti densa in realtà stavo indicando volevo dire la mesh mentre lui va provo a dare una risposta in realtà non è che devo dare una grossa risposta a Alberto quanti erano i punti prima della creazione della mesh in realtà non ho generato la nuvola di punti densa prima della creazione della mesh Alberto si riferisce allo step precedente quando ho creato quello schifo di mesh utilizzando una qualità bassa delle mappe di profondità ho proprio saltato volontariamente quel processo andando direttamente a generare la mesh a partire dalle mappe di profondità senza passare attraverso la generazione della nuvola di punti densa ecco lui adesso sta generando la mesh e quello che spero che faccia è che 17 minuti mi auguro veramente che questo tempo non sia realistico e mi possa sorprendere dando una bella impennata un'accelerata mentre va ci sono due modi per generare una mesh il modo forse più classico o meglio quello a cui forse ci siamo più abituati a pensare alla mesh è passare attraverso la nuvola di punti densa i punti della nuvola di punti diventano non tutti in realtà diventano vertici di triangoli e questi triangoli creano questa superficie l'altro modo che è una cosa relativamente recente anche se in realtà si parla di qualche versione fa di metashave è proprio passare attraverso le mappe di profondità che è questo sistema di calcolo della profondità dei pixel di ogni immagine dopo l'allineamento e quindi la generazione della mesh che in diversi casi specialmente quando si ha a che fare con degli oggetti complessi dà dei risultati a mio avviso migliori perché la nuvola di punti si porta dentro spesso un po' di rumore che disturba la generazione della mesh mentre le mappe di profondità leggono quello che è nel dato sorgente nel dato principe che sono le immagini e non risentono dei vizi chiamiamoli così che sono legati alla presenza di rumore della nuvola di punti dense intanto saluto Marco Massignan che si è unito alla chat si è unito alla live ora la mesh in modello dovrebbe essere migliore lo visualizzo se ci fai caso una volta che ho cliccato sulla mesh l'area o meglio la regione di calcolo ha fatto il suo lavoro quindi la mesh la vedo soltanto all'interno del parallelo perché ho chiesto al software di limitare il calcolo soltanto al suo interno quindi di fregarsene tutto quello che c'è fuori model shaded al colore molto meglio rispetto a quella di prima a questo punto posso se voglio rigenerare la nuvola di punti densa vedere che se viene magari qualcosa di meglio rispetto a prima ti faccio vedere anche una cosa perché in questo momento esiste una nuvola di punti densa all'interno del contenitore del chunk di metashape eccola qua dense cloud con quasi 13 milioni di punti per cui se io gli chiedo di generare un'altra nuvola di punti campionando i punti sulla mesh lasciamo 5 cm va bene il numero è molto minore perché chiaramente avendo ridotto la regione di calcolo le cose si sono molto ridotte in termini di numerosità gli dico ok lui mi dice ok c'è già una nuvola di punti dentro il progetto che è questa cosa ci faccio con questa nuova che ti sto creando la vuoi sostituire se gli dico di sì lui me la sostituisce e mi rimarrà soltanto una nuvola di punti oppure no se gli dico di no lui non la sostituisce ma la aggiunge aggiunge un altro elemento un'altra dense cloud al progetto al progetto e quindi dentro il contenitore chunk la nuvola che è scritta in corsivo è quella non attiva quella che tu non vedi quella non attiva eventualmente per determinati calcoli la nuvola con carattere normale è quella invece che stai effettivamente vedendo quando chiedi al software di farti vedere la nuvola di punti se passo da una all'altra con un doppio clic eccola qua questa è la nuvola schifosa che abbiamo fatto prima che ho fatto prima questa è la nuvola un po' migliore adesso utilizzando una mesh con delle mappe di profondità calcolate con qualità alta questo è il comando che ti permette di calcolare di far campionare una mesh no di far campionare una nuvola di punti sulla superficie di una mesh a metashape perché cosa può servirti questo comando al di là del fatto che gli utilizzi dei vari tool sono sempre molto soggettivi e io mi sono sempre confrontandomi con altre persone che lavorano su questi campi e su queste tematiche viene sempre fuori qualcosa a cui magari non hai pensato perché il lavoro di un altro è diverso dal tuo quindi se hai dei suggerimenti tali per i quali uno strumento di questo tipo potrebbe essere utile scrivili pure nei commenti perché è sempre fonte di arricchimento e sono sempre molto curioso sotto questo punto di vista una cosa che mi viene in mente è banalmente non hai tu il progetto fotogrammetrico non hai creato non hai tu le immagini ma ricevi un dato 3D e ricevi una mesh quindi se vuoi lavorare sulla nuvola di punti ma quello che ti arriva per qualsiasi motivo e i motivi anche qua potrebbero essere tantissimi è soltanto una mesh in questo modo tu hai la possibilità di importare la mesh dentro metashape e generare dalla mesh la nuvola di punti per importare una mesh non lo faccio in questo video magari anche qua potrebbe essere un altro argomento importazione esportazione di dati import import model e hai la possibilità di importare banalmente quello che vuoi in formato nei formati che ti mette a disposizione metashape come legati al modello 3D a una mesh quindi se hai un obj se hai un fbx se hai un di se hai un kmz lo puoi importare dentro metashape dovrai fare delle valutazioni su quello che è il sistema di riferimento se c'è però puoi importare una mesh e generare una nuvola di punti l'altro motivo è perché potresti volere creare magari per una parte del modello hai il progetto fotogrammetrico hai creato una nuvola di punti magari con qualità alta quindi i punti sono tanti ma magari l'area è molto grande e ti interessa avere per una parte di questo dell'area della superficie o comunque della zona che hai fotografato un dettaglio molto spinto in termini di numerosità della nuvola di punti potresti utilizzare questo strumento perché realisticamente c'è un limite oltre il quale non puoi andare nella numerosità dei punti di una nuvola densa quando crei una nuvola di punti densa adesso non la lancio il processo però Build Dance Cloud anche qua hai diverse opzioni in termini di qualità molto alta alta media bassa bassissima anche qua vuol dire questo parametro incide sulla risoluzione delle immagini che viene presa la risoluzione delle immagini che viene considerata nel calcolo dei punti a partire dai punti di legame high prende i punti alla credo risoluzione dimezzata però qua mi sbaglio sempre tra il processo di generazione della nuvola sparsa e la nuvola densa però sono abbastanza sicuro che Ultra High prende i punti alla massima risoluzione High prende i punti con una risoluzione dimezzata su entrambi i lati per ogni immagine quindi il massimo che tu puoi fare è avere una nuvola di punti con qualità molto alta e avrai una certa numerosità di punti però ci potranno essere dei motivi per cui tu vuoi avere una densità ancora maggiore e questo potrebbe essere un tool che ti permette di fare questo perché ragionevolmente quando tu vai a fare a lanciare lo strumento Dance Cloud Sample Point non c'è un limite a questo numero cioè tu puoi metterci qua quello che vuoi ora ti fa vedere anche il numero di punti faccio anche fatica a leggere quanti sono questi punti però ad un millimetro di distanza di point spacing campionando questa mesh avrai quasi 5 miliardi di punti ora forse è un po' una follia per tutto ma magari potresti voler prendere un pezzetto della mesh separarla dal resto e campionare con una densità maggiore soltanto quella parte la mesh la puoi duplicare ad esempio quindi la duplichi se non vuoi lavorare se non vuoi perdere il dato originale quindi qui abbiamo due mesh ho creato due mesh all'interno del solito chunk ritaglio una parte della mesh ad esempio sulla parte della casetta utilizzo lo strumento di Freeform Selection per fare una selezione attorno alla casetta inverto la selezione Edit Invert Selection per selezionare tutto il resto e cancellarlo e a questo punto mi rimane soltanto la parte beh direi che ho fatto una ho fatto una sono andato un po' troppo drastico ci ho dato giù un po' troppo forte di acetata quindi sono saltati anche i muri torniamo un attimo indietro va facciamo una selezione un po' più larga sulla casetta questa mesh torniamo indietro ok rifacciamo la selezione un po' più lasca ora dovrebbero esserci anche i muri immagino ah no ecco ok non ci sono perché 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 io ho attivo adesso ti faccio vedere anche questa cosa qui ho attivo che è una cosa molto interessante è stata introdotta in una delle ultime release di Metashape ho attivo lo strumento ho attivo l'opzione Visible Selection ossia Visible Selection quando fai una selezione sui punti o sulla mesh ti seleziona soltanto gli elementi triangoli o punti che sono effettivamente visibili al momento quando tu hai lanciato il comando e quello che vedi sullo schermo visibili sullo schermo quando hai lanciato il comando per intenderci se hai due muri uno di fronte all'altro e fai una selezione sul paramento di un muro dopo lo facciamo quello che c'è dietro non ti viene selezionato mentre prima ti veniva bucato tutto quanto come se fosse il raggio supersonico quindi sto la spunta da qua adesso dovrei riuscire a fare una selezione un po' più ragionevole rispetto a quello che ho in testa eccola qua quindi inverto la selezione cancello tutto mi rimane questa mesh su questa mesh io posso campionare una nuvola di punti densa dove posso spingermi a magari un millimetro no perché i punti diventano tanti 5 mm quindi quasi 10 milioni di punti non sostituisco la nuvola di punti densa e lui si fa il suo calcolo mi immagina di avere una parte di roccia che devi analizzare o che devi far analizzare a qualcuno o che devi per la quale devi creare una nuvola di punti che magari ti va in un software di elaborazione del dato tridimensionale tipico della geomeccanica ce n'è uno open source molto interessante che si chiama discontinuity self extractor lavora su nuvola di punti ma magari è una mesh o meglio la mesh molto interessante per lavorare sulla geomeccanica questo potrebbe essere uno strumento che ti permette di magnificare una nuvola di punti a partire da un dato tridimensionale pieno da una superficie come la mesh questa non è la nuvola di punti la devo cliccare la nuvola di punti questa è la nuvola di punti è chiaro che poi la nuvola di punti così spinta in termini di numerosità segue tutte quelle che sono le caratteristiche e le imperfezioni se vogliamo della mesh ma rispetto a questa nuvola di punti che già non era tutto sommato male c'è un mondo di differenze in termini di numerosità questa è una nuvola di punti dove i punti sono distanti 5 mm l'uno dall'altro questi punti in qua i punti sono distanti 5 cm quindi un ordine di grandezza in più in meno se la vogliamo guardare in termini di spaziatura tra i punti questo è un altro argomento un altro motivo per cui potresti voler utilizzare questo strumento un altro un altro motivo per cui potresti voler utilizzare questo strumento che secondo me non è poi così tanto sballato come come motivo è molto legato a un tema molto caldo in questo momento che è il rilievo per il super bonus 110% facciate con tecniche fotogrammetriche capita spesso di avere capita spesso può capitare di avere delle facciate dove ci sono nella generazione della nuvola di punti densa ma capita anche nella mesh dei buchi laddove le superfici sono prive di contrasto dove c'è un intonaco appena rasato tutto bello bello uniforme magari le fotografie le hai fatte con una situazione di illuminazione un po' bastarda quindi con una luce incidente un minimo di sovraesposizione insomma può capitare che ci siano dei buchi nelle facciate e quindi non riesci a crearti una nuvola di punti densa perché lì dentro non ci sono delle informazioni e anche la mesh potrebbe risentire di queste informazioni quindi potresti avere una mesh bucata allora adesso qua faccio una simulazione di questo in realtà non è questo il caso potresti utilizzando un altro strumento in accoppiata con quello che ti mette a disposizione di campionare i punti sulla mesh che è quello di riempire i buchi nella mesh per creare una mesh fittizia riempiendo i buchi lì dove ci sono e ricreare una nuvola di punti laddove l'informazione non ce l'avevi ad esempio facciamo finta di avere allora facciamo una specie di processo ipotetico utilizzando questa nuvola di punti qua che è quella da 2 milioni di punti tolgo di mezzo queste due perché altrimenti il rischio di fare casino è altissimo e queste due mesh le possiamo lasciare utilizziamo questa nuvola di punti facciamo finta che in questa facciata ci sia un buco ce lo creo questo buco e questo buco mi crea effettivamente la difficoltà perché la nuvola di punti che viene fuori ha una mancanza di informazione allora per creare questo buco faccio una selezione rettangolare eventualmente o anche free form selection quindi una selezione a mano libera a questo punto si che metto visible selection qua ti faccio vedere bene come funziona questa opzione di visible selection seleziono una parte di punti questa selezione l'opzione di visible selection mi permette di selezionare soltanto quello che vedo su questa faccia quello che c'è dietro perfetto quello che c'è dietro l'ha selezionato ma forse perché visible selection non era selezionato e come mai me l'hai selezionato e riproviamo vediamo se adesso funziona o se c'è qualcosa che io non uso che ho sbagli a che ho ok ora la visible selection non funziona e sinceramente non capisco perché allora facciamo un reset selection sì quindi togliamo la selezione attiva verifichiamo che la visible selection sia attiva sono sulla nuvola di punti visible selection proviamo a vedere se adesso funziona altrimenti mi devo inventare un modo per togliere soltanto questi punti ok adesso ha funzionato si vede che sei ingrippato tra metti la spunta togli la spunta prima mentre stavo facendo questi tentativi ok visible selection attiva ho fatto una selezione su questa parte mi ha selezionato soltanto i punti che stanno su questa facciata li tolgo quindi c'è un buco sulla nuvola di punti davvero potrebbe essere un caso concreto io a me è capitato non lavoro molto sui rilievi di fabbricati per il 110% ma mi è capitato in un paio di occasioni quindi se io creo una nuvola di punti una mesh ad esempio a partire da questa nuvola di punti riduco ancora di più crea una copia di questa nuvola perché voglio evitare di farti aspettare un po' di tempi di calcolo quindi creiamo quindi creiamo una copia data tasto destro duplicate questa nuvola di punti la teniamo selezionata prendiamo di nuovo soltanto il fabbricato facciamo eh ma qua adesso ho la visible selection attiva quindi ritogliamo la spunta su visible selection che mi sta facendo abbastanza mattire ok invertiamo la selezione e cancello tutto il resto provo a creare una mesh a partire da questa nuvola di punti quindi workflow build mesh utilizzo la nuvola di punti face count medium possiamo anche mettere high proviamo a vedere se con l'opzione di interpolazione attivata questa cosa rientra ossia questo buco viene riempito dalla mesh che viene generata vediamo cosa succede non dovrebbe metterci molto Alberto dice in questo punto metto il commento in evidenza un altro esempio potrebbe essere la nuvola di un terreno dal quale vengono tolti gli alberi in questo modo vengono riempiti i buchi del terreno assolutamente sì una classificazione o comunque una rimozione di elementi tipo alberi ma anche gli stessi fabbricati ad esempio mi viene in mente lo studio idraulico che richiede un DTM o comunque l'informazione del terreno senza tutti gli elementi che sono appoggiati su di esso che siano macchine che siano oggetti o ma che siano i fabbricati stessi potrebbe giocare di questo strumento quindi togli tutto con una selezione manuale con una pulizia manuale poi rigenere una nuvola che prenda soltanto informazione di quello che effettivamente è il terreno in questo caso ha finito il calcolo vediamo vediamo che cosa è successo a livello di mesh se il buco è stato riempito con l'interpolazione oppure no è stato riempito male lo vedo già che è stato riempito male perché c'è stato fatto un gombo o una bombatura una bugnatura insomma è veramente schifosa il modo in cui è riempito questa mesh quindi quasi quasi preferisco lasciare il buco e chiede alla software di tapparlo con lo strumento di editing della mesh e quindi di riempire il buco presente nella mesh quindi questo buco lo rifaccio fondamentalmente e utilizzo sempre lo strumento di selezione non dovrebbe non dovrei non dovrei prendere quello che c'è dietro invece lo prendo ah no perché ho tolto la visible selection abbi pazienza questa visible selection mi sta facendo davvero uscire di testa allora resettiamo la selezione sì rifacciamo la selezione ok ora controlliamo che non ci sia non ci sia preso niente dietro ok è un po' grosso questo buco per riempire però vediamo come funziona questo strumento di riempimento di buchi nella nuvola quindi mesh close holes lo strumento abbandonso intuitivo cioè devi muovere questo slider fin tanto che vedi che i buchi e qua ce n'è soltanto uno vengono in qualche modo riempiti nel miglior modo possibile gli dai diamo ok ora questo è una nuova mesh questo elemento di coloro salmone ti fa vedere che cosa è stato aggiunto in seconda battuta rispetto al momento in cui è stata creata la mesh tutto sommato molto meglio rispetto alla bugnatura che veniva fuori prima a questo punto la mesh è costituita da la parte celeste e la parte salmone posso utilizzare lo strumento di creare i punti sulla mesh quindi sample point gli dico magari di utilizzare una densità un po' meno spinta perché tutto sommato non ne abbiamo bisogno facciamo due quasi un milione di punti gli dico di non sostituire la nuvola di punti e a questo punto lui mi ha creato una nuova nuvola di punti dove lì dove c'era il buco e quindi ti richiedo di fare uno sforzo di immaginazione immaginandoti una facciata dove per vari motivi hai un buco all'interno della facciata all'interno della nuvola di punti della facciata in questo modo con questo processo siamo riusciti a in maniera un po' artefatta va sempre tenuto sotto controllo quando queste cose di editing vanno sempre tenute sotto controllo da un punto di vista del processo per evitare di fare degli errori e delle cose che poi possono dare degli artefatti troppo evidenti comunque siamo riusciti a ricostruire la nuvola di punti laddove c'era una mancanza di informazione questa nuvola di punti la puoi portare da altre parti mi viene ad esempio in mente un software BIM da cui poi puoi creare un modello parametrico insomma puoi andare avanti con un prodotto che in questo caso però è completo questo è possibile attraverso questo questo strumento Metashape non è l'unico software che fa questa cosa ci sono altri software che lo fanno primo fra tutti in realtà è stato è stato presente questo comando era presente prima dentro Cloud Compare che è l'altro software che ti consiglio di utilizzare in questi casi si chiama Sample Point on Mesh prima che arrivasse su Metashape credo che Metashape abbiano dato un'occhiata le cose che succedevano negli altri software e l'abbiano piano piano implementate ma credo anche sia giusto nell'ottica di far crescere un software in Cloud Compare c'è un comando che è assolutamente identico quello che si fa in Cloud Compare è piuttosto che definire la densità la spazzatura tra i punti o meglio puoi definire anche la spazzatura tra i punti ma puoi anche scegliere di utilizzare il massimo numero di punti che vuoi avere nella nuvola di punti derivante dalla sottocampionatura della Mesh c'è un video sul canale YouTube che riguarda proprio questo strumento se ti va puoi andare a vedere per vedere come funziona ma il principio è esattamente il solito io non ho altro da aggiungere su questo su questo tema non so se ci sono delle domande in chat Marco scrive sì per quanto riguarda il caso in cui ricevi una Mesh è vero che tantissimo fa la qualità e la risoluzione della Mesh che ti viene data per poter generare una nuvola di punti attendibile o meglio utilizzabile poi attendibile utilizzabile sono sempre degli aggettivi abbastanza anche qua soggettivi per quelli che sono gli scopi del tuo lavoro o del lavoro di altri a cui poi il dato deve seguire spero però che in qualche modo qualcosa di utile possa essere arrivato anche a seguito di questa live quindi la parte legata alla gestione della Mesh la Mesh è veramente uno strumento interessante io non sono abituato a utilizzarla molto lavoro principalmente sulle nuvole di punti ma la Mesh è uno strumento interessante per tante cose ad esempio i volumi il calcolo dei volumi o elaborazioni avanzate in altri software come ad esempio Blender software sempre open source per la gestione di dati tridimensionali MeshLab è un altro software open source che prende la Mesh e ci fa un sacco di cose insomma la Mesh è un prodotto interessante una cosa che si può fare è questa prendere i punti essendo una superficie crearci sopra dei punti e utilizzare il prodotto in output beneficiando di quello che è l'utilizzo della superficie detto questo io questa live la chiuderei qua quindi mi prendo gli ultimi minuti per salutarti se sei stato live quindi ti ringrazio per avermi dedicato 40 minuti se ci sei stato dall'inizio grazie per avermi dedicato 40 minuti quasi tre quarti di tempo su un comando che probabilmente ne avrebbe richiesti due minuti se vuoi suggerirmi qualche argomento per per fare queste live mi fa molto piacere lo puoi fare scrivendomi su telegram telegram poi il modo che preferisco per essere contattato i miei contatti dovresti trovarli aspetta che cerco di capire come si fa eccolo qua qua sotto a destra c'è il mio contatto telegram diretto mi trovi come Paolo Corradeghini su telegram c'è il canale telegram di 3Dmetrica telegram.me slash 3Dmetrica che è un po' un posto dove pubblico un po' più spesso rispetto ad altre parti gli aggiornamenti però poi mi trovi anche su altri social network se poi pensi che che queste cose abbiano un senso siano utili e valgano valga la pena sostenerli puoi scegliere di diventare un finanziatore di 3Dmetrica attraverso il progetto di crowdfunding che ho aperto sulla piattaforma Patreon patreon.com slash 3Dmetrica e lì puoi scegliere di supportare attivamente il progetto con due opzioni di supporto una è un ringraziamento l'altra invece è un modo un po' più importante con il quale però hai anche la possibilità di entrare all'interno della community di 3Dmetrica in cui ci scambiamo un po' di informazioni e un po' di materiale e parliamo di queste cose grazie per aver visto questa live ci vediamo alla prossima se non l'hai vista dal vivo puoi rivederla indifferita e quindi ti ringrazio per il tuo tempo un abbraccio fortissimo ciao